ciao ragazzi ma come va? come state? da quanto tempo mi siete mancati tantissimo tantissimo veramente guardate qui come sono finalmente piano piano sto diventando sempre più Alex e dall'ultimo video che avete visto mi sembra a dicembre sicuramente mi vedrete molto molto cambiato e non lo so fa penso che faccio un pochino d'effetto questa cosa però da una parte a me invece diciamo che mi sento veramente realizzata e mi sento molto me stesso allora amici cosa faremo in questo video? questo video è un video molto molto chiacchiericcio voglio aggiornarvi sulla mia vita su scusate su tutto quello che mi sta succedendo e diciamo anche sulla programmazione di nuovi video e purtroppo lo so che non sono mai e dico mai 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 puntuale e deciso perché diciamo che una volta dico una cosa e poi dopo non mi vedrete più quindi questa volta voglio veramente prendere una decisione che ho abbassato un pochino il microfono se non mi copriva troppo la faccia innanzitutto vi volevo chiedere scusa per questa location un pochino brutta messa così un pochino su all'ultimo momento però è molto molto provvisoria perché voglio comunque cambiare rivoluzionare un pochino la mia camera e farla completamente al 100% rilassante ASMR perché dovete capire amici che l'SML per me è diventata veramente una grande passione e lo so a me sta piacendo veramente tantissimo scusatemi ci ho fatto un change di luci mi piace più questa rosa dico non sono mai stato puntuale con i video perché nell'ultimo periodo mi sono davvero molto ma molto di più concentrato su un'altra piattaforma che non so se qui posso dirla però avrete capito quella con i palletti e infatti lì siamo quasi a 250.000 follower e lì faccio ogni giorno video e quindi se viva andatemi assolutissimamente a seguire anche lì perché sono molto più attivo rispetto a qui su youtube perché ultimamente avendo anche la maturità che finalmente ho finito su tiktok è molto più veloce fare video rispetto a qui su youtube che diciamo ha un lavoro molto più profondo all'origine comunque in questo video voglio accompagnare a farmi accompagnare da questo suono che è diciamo questa palla adesso vi farò vedere più da vicino guardate che bella sarebbe diciamo un ice roller io ormai penso che li conoscete tutti guardate gli avvenimenti più importanti della mia vita sono stati sinceramente la mia maturità che è successo più o meno ormai un mesetto fa e ho fatto appunto il liceo classico ma il mio indirizzo è economico sociale e sono uscito con 80 centesimi sono stato davvero molto molto soddisfatto di me perché non me lo aspettavo sinceramente però se volete un video apposito per favore scrivetelo nei commenti che lo realizzerò dove appunto vi parlerò un pochino di tutto dell'esame in generale e andrò più nel dettaglio quindi ecco fatemelo sapere qui sotto un altro affinimento sicuramente è il fatto vabbè di cambiare un pochino il look sia i capelli ma anche un pochino me stesso perché diciamo che ho ritrovato molto più me stesso e a febbraio ho iniziato diciamo un percorso con una psicologa non mi vergogno di dirlo perché penso che una psicologa serva diciamo ad ognuno di noi nella nostra vita e quindi ecco iniziato questo percorso proprio per approfondire un pochino di più il mio essere e devo dire che sono diciamo arrivato sempre di più ad una conclusione quindi sono davvero molto molto felice ultimamente a un grande avvenimento che non so se vi avevo detto mi sa di no perché l'ho scoperta a settembre l'anno scorso è che appunto ho il morbo di Crohn e anche lì se volete un video apposito dove vi dico come ho scoperto di avere questa malattia che sarebbe diciamo una malattia infiammatoria all'intestino cronica quindi ce l'avrò per tutta la vita e non è facile non è facile comunque conviverci perché finché non trovi la giusta cura stai malissimo perché diciamo che non è come io adesso non voglio fare paragoni però ad esempio come altre malattie naturalmente come tutti gli altri morbi perché i morbi diciamo che cosa sono sono l'insieme di sintomi e c'è il morbo di Parkinson e il morbo di Crohn e altri morbi che io non so l'esistenza però ce ne sono altri sono sicuro e diciamo a differenza appunto delle altre malattie questi morbi diciamo che non è come un semplice mal di ossa che ti fanno appunto male solo le ossa ma io appunto ho questa infiammazione all'intestino che però ricade su tante altre parti quindi mi fanno male le gambe pesantezza cioè che non c'entra solo con l'intestino ma anche con altre parti del corpo ho tutte afte in bocca eccetera 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 mal di pancia eccetera 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 quindi ecco non è una cosa da poco comunque volevo dirvi scusate se in questo video vedrete molti tagli però non sono mi devo abituare non ero più ecco abituato dico sono andato anche a Bologna per appunto fare degli accertamenti perché lì hanno proprio il centro e e niente quindi cerchiamo il più possibile di farcela cerco il più possibile di farcela e poi poi sicuramente adesso adesso scusate amici non ho una scaletta vi parlo molto così a random vi parlo quello che mi viene nella mente perché per chi volesse rilassarsi potrà utilizzare questo video così mentre chi vuole appunto ascoltare il discorso ascolta il discorso però ecco vamos passo da un argomento all'altro proprio quello che mi viene in mente e stavo dicendo che quindi ritornando al discorso della scuola ho finito questo grande capitolo della mia vita e adesso ne aspetta un altro e anche qui se volete un video fatemelo sapere ovvero sulla scelta dell'università o del lavoro io non so cosa fare non so se anche voi siete nella mia stessa situazione se siete passati cioè se state guardando questo video se siete passati nella mia stessa situazione ovvero che non sapete se scegliere il lavoro o l'università scrivetemelo scrivetemi le vostre esperienze la vostra avventura come l'avete passata e in amizorico questo sono veramente combattuto non so proprio cosa scegliere mentre per quanto riguarda la programmazione di video ancora non so bene so sicuramente che ritorneranno i mookbang tanto amati e volevo ringraziarvi perché il mio video più gra più visto sul canale è proprio un mookbang ASMR è arrivato a 770.000 visualizzazioni veramente amici non so proprio come ringraziarvi quindi siamo arrivati anche a 16.000 e mezzo di iscritti e farò un altro mookbang di ringraziamento poi ritorneranno i roleplay mamma mia guarda non vedo l'ora ho tantissime idee e non voglio piangere ecco anche lo stomaco parla però diciamo che come molti sapete non lo so adesso ritornando qua adesso mi metto a piangere lo so però diciamo che non lo so mi sta emozionando questa cosa di essere ritornato davanti a una fotocamera era tanto che non succedeva come scusate come ne avevo parlato anche in un altro video il mio canale youtube il nostro canale youtube comunque registrare i video pubblicarli su internet mi ha aiutato veramente in un periodo difficile della mia vita e mi ha diciamo tolto dalla depressione e poi anche appunto da quel brutto periodo che è stato lockdown per me e sono davvero contenta di ricominciare non voglio essere però questa volta contraddittorio ovvero che dico ricomincio ricomincio e poi può darsi che non mi rivedete per un mezzo anno però non ho più scuse questa volta non c'è più la scusa della scuola ecco e niente amici a parte gli scherzi spero che voi mi capiate se non mi vedrete più e se vedrete video random però non lo so voglio ricominciare voglio ricominciare lo so che non è facile l'estate perché comunque sono abbastanza in vacanza la mia ultima vacanza libera perché l'anno prossimo o sarò all'università o sarò al lavoro sicuro quindi me la voglio un po' godere anche dopo la motorità ci sta però voglio diciamo non voglio fermarmi con i video ecco non lo so diciamo che questo mi sto un pochino aprendo ma voi lo sapete che io sono stato quasi sempre aperto con voi perché diciamo che io vi considero quasi come una seconda famiglia e e quindi non lo so no scusate non ho le parole sono davvero tanto felice ho conosciuto qui sui social su tiktok ma anche qui su youtube i miei abbonati i miei iscritti più affezionati e con loro che ci sentiamo quasi tutti i giorni qui sui social è nato veramente un rapporto l'amicizia è davvero molto molto di grande grande valore grande stima reciproca e sono davvero molto molto felice per parlare come ultima tappa quindi mi raccomando amici ve lo sto dicendo un po' in tutto il video se avete argomenti di video mi raccomando scrivetemi qua sotto io vi prendo in considerazione tutti accetto tutto accetto tutto tutti i roleplay tutto quello che volete che ci sto facendo sta malo tutto quello che volete e e niente comunque ve l'avevo fatto vedere anche in un altro video ma ve lo voglio far vedere riparlando dell'argomento di primo ovvero della rinascita grazie a youtube infatti volevo sia tatuarmi o il logo di tiktok o il logo di youtube però penso che mi tatuerò invece il logo della smr perché proprio quello poi dopo dipende dalla tipologia cioè dopo dico dipende dalla piattaforma in cui pubblico i video smr però diciamo che sono quelli gli oggetti cioè quello diciamo il protagonista di tutti i miei video poi se su youtube ti toccano un cambio però è sempre l'smr quindi molto probabilmente o mi tatuerò la scritta asmr oppure un microfono non lo so adesso ancora devo parlare con il mio tatuatore la mia tatuatrice però ecco e parlando sempre di tatuaggi appunto vi avevo fatto vedere in uno scorso video che mi ero tatuato questa bellissima fenice beh bellissima perché naturalmente se no non me la sarei tatuata sulla pelle non so se riuscite a vederla bene però ve l'avevo fatta vedere bene nello scorso video in cui appunto simboleggia la mia rinascita e quindi ecco voi sicuramente ne fate parte amici ne fate veramente parte adesso voglio un attimo oltre che ho accontentato alcune persone che dicono che gli piace molto come parlo il mio whispering eccetera voglio accontentare anche invece quelli amanti dei trigger ovvero dei suoni rilassanti oltre che che Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info arriverà anche a breve un video solo di trigger e vi farò appunto provare anche questa bollina che io adoro le avevo viola rosa verdi di tutti i colori ma però oddio non si dice vabbè ma mi si sono rotte tutte e mi è rimasta solo questa blu e il suo compagno non c'è più è fancherina e invece due bianche quelle mi sono rimaste proprio perché mi sono state gentilmente regalate da Francesco e mentre appunto quelli che ho comprato io mi si sono rotte tutte non lo so amici cioè fatemi voi regali almeno non mi si rompe le cose me le compro io si rompe tutto non lo so comunque niente amici io vi ringrazio davvero per aver guardato questo video grazie grazie davvero per tutto il supporto che mi state dando e niente noi ci vediamo al prossimo video perché si ci vedremo in un prossimo video molto molto presto amici ve lo prometto d'accordo grazie davvero per il vostro supporto e scusate se questo video con il respiro non mi sono molto controllato ma non è facile non me lo ricordavo che era proprio così ciao amici vi voglio bene alla prossima ciao ciao